Eccoci su Fortnite, vi dico solo di preparare i pop corn perché succederanno cose assurde, accadrà di tutto! E questo era solo un piccolissimo assaggio, partiamo! Eric, hai visto? È tutto natalizio, guarda che bello! Guarda il babbo natale, si è sfidata! Perché? Che panciole, ma che viso puccioso! Bellissimo, un apparale è tutto così, Merry Christmas! Guarda, la gente si butta fuori dalla ghirlanda! La città del pomodoro ci sta chiamando! C'è uno che è assai più sotto di noi, che va a 180, anzi tu è! Ma noi siamo più forti! Noi siamo più forti, la paura della morte! Allora, Matt Kit! Hai preso con me? Eh, purtroppo! Sto correndo alla ricerca che c'è una pistola! Non c'è niente! Sì, sì! Mitraglietta! Sai se lì dentro c'era qualcuno? Ale, non lo so, so che non ho nulla e io vado! Sei? Ah sì, tu sei sul retro? Ok! Ci sono! Oh, mi hai fatto... Boh! Esatto! Ma quei due tizi, no? Che erano tipo velocissimi, del cazzo... Hanno fatto puff! Sono troppo... Uuuuuh! 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 Non è possibile? Ma questo gioco tira fuori il peggio di ogni essere umano! Oddio! Eric! Oddio! Non è bello come il tuo, ma... Ma in una casa sola tutto questo! Se senti dei passi, fai il verso della cicala! Basta con questo verso della cicala ogni volta! Non fa nessun verso la cicala! Come non fa... Cicala! Non puoi spararmi, siamo compagni, non ricordo! Non so ancora per quanto... Potremmo andare in container... Mi sembra una gran cagata, però... Come vuoi, eh? Nel mentre... Io ho 000... Potrei craftarmi una cosina come... Eh, questa pietra è... Perché me la devi rubare se sono povera! Perché così rimarrai ancora più povera! Oh, sopra c'è il pompa anche buono! Quello che piace anche a te! Quello... Riomare! Perché? Mi fa schifo! Però non sapevo cosa dire! Sai quello buono! Dovevo dire una marca! E allora... Quello svizzero! No, novi! Da meglio! Facciamola! Ah, guarda! Lì c'è un pompa! Quello buono! Quello che piace a te! Quello svizzero! No, novi! Adesso... Funziona meglio, no? Adesso dovremmo tipo... Far uscire un placement così dal sotto! Però... In realtà siamo poveri e nessuno ti va a fare placement! In tutto questo non hanno fatto neanche... Che cazzo era? Eccoli! Oh, li sparano! Vedete, l'ho detto che il balletto era proprio ideotico! Ma mi fa sentire totale i package! Perché non mi va più F3, Ade! Non ti deve andare F3! Non mi va il tasto! Neanche F2! Neanche F1! E' finito i materiali! Non mi va il tasto! 120 su test! Puttino! Stanno picchiando qualche giorno con delle granate! Vieni con me! Attenzione! C'è qualcosa di meglio! Vai, è il tuo momento! Io vado in copertura più avanti! Are you ready? Se andasse la tastiera sì! Eccolo! E' morta! Vabbè, cioè... E' stato una cosa veloce e indolore perché... Ma non hai detto che sia... Io sono una persona da mia anima! No! Magari stavo aspettando qualche d'uno! Oddio! Mi hai messo sto dubbio e mi hai mandato... No, no, io ho sentito sparare, Ale! Oddio! Questa è stata la... Oddio! Te l'ho sparata a dove? Lo vedo! Est collina! Sì! Ale! Eh! Lui si costruisce! Noi ce ne andiamo! Io ti sto a battire! No, non venire fuori che ti vedi! Ma io sono veloce! Io sono... Ninja! Oddio, ma sei cascato? Ti sei fatto male? Vabbè, io perché io ti seguo così come un cagnolino? Che manca le scale! Un cagnolino! Ok! Uh! Ale! 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 No, vabbè! Cioè, tra un po' me li infilo pure nelle mutande! E ci si morirà, eh! Lo sai che ci si morirà! Ma ovvio! Ma trovi le cose belle e muori sempre! Oddio! Pensavo di iniziare a ballare! Stavo già per tirare il cacciotto! Ma è stata... Eh, eh! All'antenna! 105! Te coperta! Te coperta! Ti giuro! Lo vedo! Nord-est 30! Dove? Qua da me! No, da me! Sua IconTain! Ok! È stato pulito! Non si scappa! Si affrontano gli avversari come veri eroi! Sono anche ripulito! Ah, che! Eric, sono così ricca di roba che non lo so, riccanza rispetto a me è poveranza! E poi moriremo da un cecchino a 50 km di distanza! Eh, quello ci va! Cecchino ci va! Noi se cerchiamo per qui lo troviamo pure, eh! Ale, io stai a te! Oh, c'è il pezzo! Oh, c'è il pezzo! Oh, c'è il pezzo! Ok! C'è sul pezzo! È tutto sistemato! Avete visto il bello delle cose belle, no? Eh, ho altro detto io così... Dici, te lo piscaracca! Boom! Io la telecamera! Non fai rumore quando cammini, è impressionante! Ho le scarte piuma! Invece che puma, piuma! Cioè, era quella la battuta! Non era... Cioè, io adesso dovrei ridere! Non è! Cioè, dentro un po'... Cosa? Da me era una battuta! Allora mi sto ammalando della tua malattia se io penso che questa sia una battuta quando non lo è! Oddio! Lui! Ma non può essere per noi! Non possono sapere che noi siamo qui! Dai! Oddio, che hai fatto? Tu hai sparato un colpo? No! Cazzo, ma era qua! E' ancora... Oh! E' a nostra destra, Ale! Non so, non lo vedo, Eric! Eric, mi sto cagando addosso, perché io se non li vedo mi gira veramente il cazzo, eh! Però no! E' all'antenna? Lo lasciamo, andiamo in antenne e lasciamo, però forse sono in due! Tre, due, uno... Passando un po' la destra! Sì, comunque sono lì! Desci, left! Tra, dietro di me! Porca puttana! Costruisci, Leo! Costruisci! Costruisci! Da, due, cinquenta e cinque! Ancora smoke! Merda! Per un'altra! C'è chino sopra la mia testa e mi sta aiutando! Sì, ma io avrei un po' paura! Anche io! Mi sto cagando in mano, letteralmente! Letteralmente è meglio di no! Vuoi salire la montagna o no? Secondo me ci si scopre, andando in alto ci si spavano! Eh, capite, come la vinci sta partita? Hai ragione, dai, proviamo! Vai avanti tu! Ah, l'avevo girato! Da dove? Nord-West, credo! Io sono un tipo in safe, credo! Costruisci, chiudi! Sì, ha provato a prenderti! Allora, forse, da là! Questo è per noi! No! Sì! Cazzo! Io sono morta! Sì, è sempre da Nord-West! Dietro quei sassi! Lotta come l'eroe! E il bello è che io sono ancora viva, mi viene una mongolfera accanto! Questi sono ancora sopra di me! Sette left! Tu stai là! Lasciami morire! No! Mai! Il tuo posto è là! Hai detto se dobbiamo morire ci moriamo insieme! Sì! Ovvio! Oddio, è arrivata la Z staccata a noi! Sì, è benedicela! No, c'è Mad! È il momento! Tu costruisci, io semmai sparo! È qua! Da me! È in giurata! C'è anche lui! Ma è in giurato! Vabbè! Nord! 3,45! Ho polpa in mano! Siamo quattro! Cioè, è solo lui contro te! Non so dove sei! Non so dove sei! Sì! 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 E andiamo! Da un momento che andavano pushati questi! Che doveva che volevano fare lì sopra! Come è successo di tutto! Scar leggendari come se piovesse! GoPro che cade! The Lion che ve l'ha battuta sempre che sia la fine assoluta! Sette colpi di missili che volavano ovunque! Da un nemico che era dentro un cespuglio! È una vittoria reale! Sì!